Buongiorno e benvenuti qui al Club Bicau Ratum, dove inizieremo un nuovo ciclo di lezioni. Oggi il secondo giorno di primavera, 22 marzo 2013. Mi occuperò in questo periodo della preparazione con la mia allieva di un cavallo giovane, un cavallo di 4 anni. Il cavallo che avete già visto in libertà a saltare a 3 anni, birbo delle paludi. Adesso abbiamo iniziato il lavoro da 6 mesi, il cavallo ha lavorato sempre al coperto. Oggi è il primo giorno che lavora fuori, ha già fatto mezz'ora di lavoro in piano. Adesso vi farò vedere un po' di esercizi e qualche saltino, se possibile, se il cavallo è decontratto. Ma prima di questo un po' di lavoro sulle barriere a terra. Se il cavallo è sereno e tranquillo, iniziamo a fare qualche esercizio con una barriera a 3 passi, qualche crocetta, eventualmente forse un verticale, ma niente di più. Dipende un po' da come il cavallo reagisce. Sarà lui a dettarci i tempi. Dobbiamo andare per progressione, ma la progressione deve essere molto lenta. Nel senso che se il cavallo non ci dice che è pronto, non andiamo avanti. È meglio fare qualcosa di meno che qualcosa di più con un cavallo giovane. Beh, con qualsiasi cavallo, però a maggior ragione con un bambino, un bambino di 4 anni, stiamo educando come stessimo di quando il nostro figlio. Qui è un cavallo di 4 anni, con un'allieva esperta, con il mio aiuto. Cercheremo di formare un cavallo, penso un cavallo di ottime a qualità, perché l'hai dovuto saltare in libertà. Salta veramente molto bene, dunque non bisogna avere fretta. Se le cose vengono fatte in modo graduale e bene, secondo me diventa un cavallo da gran premio. Dunque facciamo le cose con estrema calma. Ma anche se non dovesse essere un cavallo da gran premio, comunque le cose vanno fatte con estrema calma, in sintonia con il vostro cavallo, in serenità, in modo che il cavallo, quello che deve fare, lo apprenda con estremo piacere. Prego, iniziamo a fare prima un po' di passo a redini lunghe. L'obiettivo finale, adesso abbiamo già fatto un ottimo lavoro, dunque l'obiettivo finale è che il calo lavori a redini lunghe, senza alcuna coercizione. Sono solo le due gambe che lo mandano avanti, e poi è naturale l'intervento della mano, ma l'intervento della mano deve essere minimo, perché l'obiettivo nostro è che il calo diventi un cavallo con una bocca, diciamo dolce, leggera, che tutto venga estremamente facile. Dunque per avere un calo molto rispondente ai nostri ordini bisogna avere una mano molto gentile. Il calo nasce con una bocca molto sensibile, per far sì che rimanga sensibile bisogna che i cavalieri, o amazzini in questo caso, lavorino con una mano estremamente gentile. e poi non ci sarà un bisogno di invocatura all'infuori del filetto. Ci sono pochi cavalli che non possono essere montati in filetto. Vedo un passo attivo, l'incolatura distesa. un premio. Il calo deve essere premiato quando fa i lavori fatti bene. Non abbiate paura a premiare i vostri cavalli. Deve essere alla fine un piacere anche lavorare per lui, come per noi. Se noi, esseri umani, lavoriamo con piacere, rendiamo di più. La stessa cosa per il vostro cavallo, dovete pensare bene bene. Puoi iniziare a trottare. Pronto. Se non reagisce alla gamba usate la frusta. Frusta lunga, preferibilmente la frusta lunga nella mano interna. In questo caso Rita ce l'ha nella mano destra, perché è destra, ma anche perché il cavallo ha fatto un ottimo lavoro, dunque reagisce bene sia la gamba interna che l'esterna. Non è adesso importante che abbia la frusta nella mano interna. Ma nel momento in cui iniziate il lavoro con un cavallo giovane, frusta la mano interna perché? Perché alla vostra destra, in questo caso a mano sinistra, nella parte esterna c'è il muro, dunque il cavallo sta tra il corridoio di frusta o gamba interna, ma siccome le gambe, l'aiuto della gamba non lo conoscono, si apprende con la frusta lunga o con la frusta, perché all'inizio non è che conoscono il comando della gamba, lo insegnate con un frustino. Carlo è attento, guarda destra, sinistra, e la cosa positiva secondo me è che lavora a redini lunghe, non c'è contatto, l'obiettivo è montare con contatto, certo, ma è meglio non avere contatto che averne troppo. Io preferisco che il cavallo alla fine trotti, galoppi, senza aver nessun contatto a redini lunghe, ma che apprenda ad obbedire agli aiuti, che sono le due gambe, il peso e come ultimo la mano, ma che reagisca bene all'aiuto delle due gambe, cambia pure di mano. Le due gambe, adesso mandalo avanti un po' di più, in questo caso le due gambe perché si stava sbandando un po', dunque nel momento in cui sbanda le due gambe date assieme danno la direzione, dicono al cavallo di andare dritto, la gamba sinistra con l'aiuto della redini destra, fa sì che il cavallo vada a destra, dunque il segnale lo date con la redini interna per la parte anteriore, la parte posteriore dovrebbe girare con la gamba esterna, queste sono tutte cose che il cavallo deve apprendere, le sa fare abbastanza bene, ebbene nella fase iniziale lavorare vicino alla parete in modo che il cavallo apprenda, fa niente se rompe il galoppo, lascia pure che rompa il galoppo e il cavallo apprenda a lavorare con un punto di riferimento, il punto di riferimento è nel meglio coperto, diciamo la cavallerizza, il muro diciamo, e qua l'ho steccato. E poi piano piano vi allontanate dalla pista, ma questo è un cavallo in modo graduale, il cavallo ha già un buon lavoro e poi è un cavallo che vuol far bene, è un cavallo che è positivo, che apprende molto facilmente. Il suo papà è Winner delle paludi, un cavallo che avete visto precedentemente nei video, un cavallo grigio caratteriale, la mamma Una delle paludi. Winner delle paludi nasce da Clinton, ed è figlio di Elidde delle paludi, è una cavalla nata e cresciuta qua, forse è la migliore cavalla di questo allevamento. Birbo delle paludi è anche figlio di Una delle paludi, sua mamma è Una delle paludi, che è figlia di Lise d'Armen, un stallone performer in Belgio e il papà della mamma è Zalinka, una figlia di Nimmerdor, altro capostipite dell'allevamento olandese, dunque delle origini direi di tutto rispetto. L'avete visto saltare in libertà, il cavallo in libertà salta veramente in modo oserei dire eccelso, salta molto bene anche montato e la cosa positiva è che apprenda con estrema facilità. Ok, adesso iniziamo un po' di lavori sulle barriere, l'inizio di quello che può essere il lavoro del salto ostacoli, barriere a terra poste a 1,10 m, 1,20 m, prima le barriere un po' più larghe, non è importante che il cavallo guardi, si distenda, non è grave se il cavallo fa un errore o mette i piedi male, l'importante è che apprenda a guardare, a metterli in colatura e che il cavalliere sia estremamente sereno, questa è una girata stretta, forse eccessivamente stretta per un calogiorno, ma ha già fatto molto lavoro il cavallo e poi l'ultimo, le barriere un po' più, un po' più diciamo a fronte stretto, sono due metri, diventa un po' più complicato, sembra tutto molto semplice perché se abbiamo molto lavorato su questo, però vi assicuro che le barriere verdi che vedete lì per un cavallo che deve iniziare, è un esercizio abbastanza complicato, questi sono esercizi elementari che però richiedono un grande lavoro, anche perché io voglio che vengono fatti vicino alla parete in modo che la curva già è difficoltosa, perché se fate le cose difficili a casa il concorso diventa una formalità, è naturale che le cose vanno fatti per gradi, perché per fare questo esercizio qua bisogna lavorare molto, noi abbiamo fatto questo esercizio in maneggio, l'abbiamo fatto per un mese, un paio di mesi, finché il cavallo lo fa con estrema facilità, abbiamo già introdotto qualche saltino anche, qualche croce, potete vedere qui una barriera a tre passi, con un fronte stretto e poi un fronte un po' più largo, iniziamo a fare le barriere, gli esercizi, prima fronte largo, ma questo è il risultato, io faccio un fronte stretto e per uscire fronte del lago, sono tre tempi corti e una gabbia a due tempi, sembra un cavallo esperto, cambia di mano e vieni da sinistra, tutto ciò per il semplice motivo che viene fatto tutto in modo graduale, è un cavallo che non ha subito traumi, è un po' più stanchino, dunque si è appoggiato un po' sulla crocetta, non mettergli troppa fredda perché adesso è abbastanza sicuro, un po' più nel suo brodo, senza assistenza della gamba, lascia che guardi, ok vai a sinistra adesso, ok molto bene, lo facciamo ancora due o tre volte, visto che sei andato due volte a destra, adesso vai una volta anche a sinistra, da sinistra verso sinistra, piano piano concedili un po' più di incolatura, allora non ve l'ho detto prima, ma nella fase iniziale ho voluto che accorciassi un po' le redini, per essere presente se c'è un problema, adesso che hai in fiducia, che li lavori anche su questi esercizi qua, alla fine ha ridini lunghe, che diventa una cosa estremamente facile, questo facilita, poi il cavallo diventa un po' più facile, dare fiducia fa sì che il cavallo possa eventualmente scartare, però non è il caso fino a questo punto, perché è abbastanza propositivo come cavallo, non cerca di evitare il lavoro disponibile. Adesso finisci il lavoro rifacendo ancora un po' le barriere a terra, e poi direi che per questa prima lezione può bastare, continueremo poi dopo il lavoro con lui, introducendo anche forse il lavoro su altri quattro anni, perché ne abbiamo tre in scuderia, ma questo è quello che è un po' più avanti nel lavoro. La cosa importante con cavalli giovani è fare sì l'esercizio difficile, diciamo quello più difficile, anche se non è un esercizio molto difficile, ma finire poi dopo i saltini con un esercizio elementare, le barriere a terra, ripeterlo tre quattro volte che finisce sempre non con uno sforzo, ma con una situazione positiva. E dopo le barriere a terra che ha fatto, un po' di trotto sulla pista a redini lunghe, un po' stanco, un po' distratto, la fatica fa sì che fa qualche errorino, ma vedete poi sulle barriere strette, a fronte stretto, come è di nuovo attento. Lascialo pure a redini lunghe, può bastare, accarezzolo un po', mandalo avanti un po' di più. Un paio di giri a sinistra, un paio di giri a destra, direi che per oggi va molto bene, può bastare. tienilo un po' più attivo, perché è un po' stanco, ma che comunque rimanga in un trotto attivo. Anche quando si supera un po' la storia della stanchezza, è chiaro che adesso è stanco, bisogna far sì che ogni giorno faccia qualcosina in più. È stanco, noi lo obblighiamo comunque a lavorare, così piano piano viene in condizione. Oggi ha fatto un lavoro di 40 minuti, vorrei che arrivasse a fare un lavoro di un'ora, un'ora e mezza bene, senza essere stanco, naturalmente con molte pause al passo, in modo che il cavallo prenda piano piano la condizione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.